Nuova piazza Garibaldi, aperta anche l'area più green, le piace? Sì, la piazza è bellissima, dopo due anni di sofferenza, vediamo cosa ne uscirà fuori nei tempi futuri. Piazza Garibaldi nei fatti totalmente pedonale, stop quindi totale alle auto. Sì, va bene, però bisogna trovare anche un'area di parcheggio e di carico e scarico, indispensabili. Trovarla nelle vicinanze? Sì, assolutamente sì. Quindi in realtà c'è qualche pecca? Vabbè, non nella piazza, sono altri tipi di valutazioni che andranno fatte successivamente a Panzo, che comunque gli nostri amministratori devono prendere in considerazione, perché manca proprio questa esigenza di avere parcheggi per poter poi avere delle persone che possono comunque venire nell'area pedonale a passeggiare, però devono avere anche un servizio di parcheggio. Nonché quello dove c'è adesso il Matterland, che secondo me si potrebbe creare un bellissimo parcheggio dove c'è lì in via di fronte al mercato. Cercare area dove fare parcheggio. Piazza Garibaldi quindi tutta nuova, c'è però una carenza di parcheggi, lei da commerciante dunque lamenta anche magari un calo degli affari? No, non lo so questo, non posso valutarlo in questo momento, perché io adesso ho due anni di chiusura totale, si riapre oggi, questo ce lo dirà solo il tempo. Io non posso già fare valutazioni così. I parcheggi sono comunque indispensabili. Indispensabili secondo me.